Musica Può finalmente partire il progetto del campus scolastico alla ex caserma di Via Rossetti 5 milioni della regione, oltre ai 20 accantonati, ora l'acquisizione dell'area Basta annunci, basta sparate sul futuro della feriera, ora solo atti formali Così a Roma, al tavolo del ministero, l'assessore regionale al lavoro, Rosolene A proda questa sera in consiglio comunale la delibera che istituisce una sorta di paghetta per i consiglieri Il provvedimento che divide le forze politiche Presepe danneggiato in piazza unità, testa mozzata a una pecorella Al vaglio delle immagini di telesorveglianza per trovare i responsabili, ha spiegato l'assessore Bucci I 200 anni dell'ITIS tra storie e sfide per il futuro Mercoledì prossimo con una cerimonia speciale si chiuderanno le celebrazioni dell'ente di assistenza triestino L'Alma cede solo nel finale a Cremona, 5 uomini in doppia cifra, buon impatto sulla partita Ma brutte percentuali nel finale, soprattutto ai tiri liberi Risate, applausi a scena aperta, contrappuntano che disastro di commedia La farsa in scena al Bobbio fino a mercoledì Buonasera e bentrovati a una nuova edizione del telegiornale di Telequattro Il progetto di creare un polo scolastico all'interno della ex caserma Vittorio Emanuele di Via Rossetti Non è più un sogno ma un progetto che ha gambe per correre L'annuncio oggi nel municipio di Trieste da parte del sindaco di piazza Insieme con l'assessore regionale Roberti 5 milioni di investimento dell'amministrazione regionale A sigillare una solta di patto traenti per la realizzazione del polo scolastico Milioni che si vanno ad aggiungere ai 20 già accantonati dall'amministrazione comunale Per quanto riguarda l'edilizia scolastica E che verranno riversati tutti proprio su questa idea Quella di raggruppare la gran parte delle scuole superiori in quel sito Il campus per le scuole superiori nell'ex caserma Vittorio Emanuele di Via Rossetti E' da tempo il pallino del sindaco di piazza Ora il progetto può prendere la strada dell'operatività Il patto con la regione e i 5 milioni di euro stanziati in finanziaria per il 2021 Come comunicato oggi dall'assessore regionale Roberti Consentono se sommati ai 20 milioni accantonati dal comune Nel riparto dell'edilizia scolastica Con l'obiettivo di farli convergere tutti sulla nuova struttura Di poter programmare acquisizione, progettazione, lavori e prime scadenze Per il prossimo triennio L'operazione ha finalmente gambe per correre E ora si, ci sono le gambe Perché c'è una ragione che ci ha creduto Durante la concertazione avvenuta nei giorni scorsi Il comune di Trieste ha fatto capire quali erano le loro ragioni Non era difficile farlo Visto che quella era una partita che avevo vissuto fino a poco tempo fa In prima persona, dunque ci scommettiamo E ci scommettiamo in modo importante Con altri 5 milioni di euro messi a disposizione sul 2021 Per consentire in questo primo anno il comune Di acquisire la proprietà dell'area Poi di cominciare i lavori In seguito di proseguirli con le risorse messe a disposizione Il primo step sarà quello di acquisire l'area In mano alla cassa depositi e prestiti Dopo la sdemanializzazione La giunta, annunciato il sindaco Deciderà al massimo in 40 giorni Se prendere la strada dell'accensione di un mutuo Oppure se concordare con l'ente proprietario Con cui i colloqui in realtà proseguono da più di un anno Una sorta di scambio con Palazzo Carciotti A fronte dell'accessione Resta da capire se alla pari O per una parte dell'area Poi la quadra sulle scuole da destinare in quel sito Tra i 19 istituti superiori triestini Tenendo conto che non vi passerà sicuramente il Dante Già di recente ristrutturato Ho detto che chiamerò naturalmente i presidi E diremo quali sono le peggiori che abbiamo La peggiore in assoluto è la succursale del Petrarca In viale d'Annunzio che immediatamente va spostata Ci sono 800 ragazzi di cui 500 ragazze dentro Quella sicuramente sarà la prima Il primo edificio da cui partirà il riuso della caserma Sarà quello all'angolo con via Mameli L'obiettivo finale è quello di destinare in via Rossetti Una decina di istituti con palestre, biblioteche e aree all'aperto Nel segno di una vera rivoluzione del Rione Collegata all'operazione Fiera Acquisita dal gruppo austriaco Che realizzerà condomini, parcheggi e aree commerciali Oltre che a una necessaria riqualificazione della viabilità Alla conferenza stampa i consiglieri della maggioranza di centrodestra Se guardiamo le immagini Quattro su sei, a parte il sindaco, sono della Lega Abbraccio o accerchiamento? Giornata importante anche per la feriera di Servora Al tavolo del Ministero dello Sviluppo Economico a Roma C'era anche l'assessore regionale del lavoro Alessia Rosolenca Ha detto parole chiare ed importanti sulla questione annunci Rispetto alla vendita dell'area mare della feriera Oggetto di interessi da parte di cordate internazionali Cira Guaglia, Bernardo Gulotta Basta sparate sul futuro della feriera Troppo dannosi gli annunci di trattative con i cinesi o altri interessati Soprattutto per la serenità dei lavoratori Si è espressa così l'assessore al lavoro Alessia Rosolenca Presente oggi a Roma Su incarico del presidente Massimiliano Fedriga Alla riunione del tavolo di crisi richiesto dai sindacati Il vertice per fare il punto sul futuro della feriera Si è svolto al Ministero dello Sviluppo Economico Su incontri informali e dichiarazioni ufficiose non si può costruire né un'analisi corretta Né una coerente strategia di intervento sulla situazione della feriera di Servola L'amministrazione, ha aggiunto l'esponente dell'esecutivo al termine della riunione È abituata a lavorare per atti formali e a portare a termine impegni presi Non certo a discutere di cose riferite a soggetti terzi in incontri cui non ha preso parte Per voce della giunta regionale, quindi, rimangono gli impegni già sottoscritti negli accordi Le iniziative e le risorse destinate all'area di crisi industriale complessa di Trieste Secondo Rosolen, inoltre, la regione è disposta a valutare, in collaborazione con tutti i soggetti coinvolti Modifiche al percorso intrapreso a fronte di eventuali dati oggettivi che lo richiedano È opportuno, ha concluso l'assessore, che tali decisioni vengano assunte all'esito di tavoli ufficiali Con il coinvolgimento di tutte le parti interessate E proprio sulle sparate, sugli annunci rispetto al futuro della feriera Si è espresso in modo molto chiaro e molto netto il sindacalista della film CISL Umberto Salvaneschi Nel corso della trasmissione Ring, dedicata proprio alla situazione della feriera Quanto mai incandescente sulle prospettive Dal mio punto di vista siamo al punto del silenzio Un assordante silenzio delle istituzioni 3 maggio il Presidente è entrato in piena carica alla Giunta Ci ha riunito una volta sola promettendo tavoli operativi e ristretti Non è seguita mai nessuna convocazione Un silenzio assordante da parte della proprietà Rispetto alle notizie che ormai tutti conosciamo di questo interessamento Che il collega ha illustrato poco fa Quelli che hanno parlato un po' sono quelli interessati alla questione della portualità Di questo possibile avvento dei cinesi su un'area geograficamente importante Tutto il resto è un silenzio che però lo parla anche questa sera nella riunione che abbiamo Nella puntata che abbiamo qua oggi Benvenga che ci sia una politica Un Movimento 5 Stelle Gli altri dove sono? Dove sono? Forse, forse, faccio una battuta Forse sono pagati poco Forse sono pagati poco e non riescono a contemplare anche il turno serale C'è il silenzio, può essere perché sta accadendo qualcosa Ma nel momento in cui c'è il silenzio, sta accadendo qualcosa E le parti sociali, le parti che vanno a difendere gli interessi di 600 famiglie Di 600 persone che lavorano in questo momento, in quell'area Non ci siamo Siamo alla politica, però da questa sera in Consiglio Comunale di Trieste La delibera che istituisce una sorta di paghetta per i consiglieri Provedimento che divide le forze politiche Come ci spiega nel servizio la nostra Laura Bucarella Alla prova dell'aula la delibera sulla cosiddetta paghetta da 1000 euro per i consiglieri comunali Nelle intenzioni l'introduzione del compenso fisso dovrebbe ridurre le spese E' una certezza dei costi a questo punto che possono soltanto che diminuire Non si può lavorare non sapendo esattamente quanto deve impegnare Facendo assestamenti continui di bilancio Soprattutto facendo commissioni che magari servono soltanto per aumentare il numero delle stesse Oppure bloccando commissioni che invece sarebbe opportuno fare E' tutto un modo per lavorare in maniera più limpida Non parliamo di cifre Per un consigliere comunale che prenda 800 euro al mese netti Non mi sembra una bestemmia Io credo che sia un'ottima iniziativa Contrarie le opposizioni ma anche qualche esponente della maggioranza In primis il presidente del Consiglio Gabrielli della lista di piazza Tra le ragioni della contrarietà il dubbio che il discusso provvedimento Non porti a un reale risparmio ma addirittura a costi lievitati Non ci piace perché non siamo certi che ci sia un risparmio per le risorse pubbliche innanzitutto Sicuramente non sarà un voto favorevole Non abbiamo ancora una posizione determinata Nel senso che dobbiamo ancora confrontarci Perché ci sono vari aspetti della delibera Su cui abbiamo delle posizioni non favorevoli o comunque contrarie Abbiamo dei dubbi, abbiamo delle perplessità Che saranno chiarite nel dibattito consigliare Comunque sicuramente non sarà favorevole il voto Se venisse applicata la proposta di delibera così com'è Si passerebbe dai 400 mila euro annui spesi nel 2018 a 587 mila euro Quindi ci sarebbe un aumento di 187 mila euro per i compensi ai consiglieri comunali Quindi se la delibera rimarrà così noi non la voteremo Se invece verrà accettato un emendamento che abbiamo presentato Per riportare il costo a 400 mila euro annui Quindi pensiamo di votarla perché comunque l'indennità di funzione Stabilizza il costo e quindi evita eventuali aumenti nel futuro La cronaca furto nella notte al patinaggio artistico triestino di via Costalunga A quanto pare uno dei tanti furti Come ha raccontato Marina Benjic D'Agostino Vicepresidente dell'associazione D'aprile dice abbiamo ricevuto più di 20 visite non gradite Questa volta ci hanno portato via per la seconda volta un mixer per la musica Abbiamo fatto diverse denunce ma sembra sia difficile pizzicare il ladro Che si presume sia sempre lo stesso Ladro che avrebbe anche portato via oggetti di uso quotidiano In questi nove mesi dice sono spariti televisori, abitatori, soldi e persino cibo e bibite Per non parlare dei danni che il ladro lascia scassinando la porta o la cassa Aggiunto la Presidente Domani approfondimento sul tema proprio con la Vicepresidente della Società Sportiva Purtroppo si segnala un altro atto di vandalismo al presepe di Piazza Unità Ormai abbonato a questo tipo di atti Quest'anno a pagare è stata la pecorella Sentiamo il servizio Il presepe di Piazza Unità anche quest'anno vittima di uno scempio Sbriciolato il muso della pecorella probabilmente con una pietra A segnalarlo sui social è stato l'assessore comunale al turismo Maurizio Bucci Probabilmente come al solito si potrebbe trattare dell'ennesimo episodio di vandalismo D'altronde non è una novità Ogni anno più o meno capita un gesto analogo I danni al presepe di Piazza Unità sono un classico Ormai un appuntamento annuale A partire dal 2011 Quando qualcuno subito dopo il 25 dicembre Aveva deciso di rubare una pecora e rovinare San Giuseppe Poi sostituito Nel 2014 quando tutto sembrava andare liscio La decapitazione sempre del povero Giuseppe Avvenuta nella notte tra il 5 e il 6 gennaio L'anno dopo ancora la testa di una pecora Che andò in frantumi E infine l'anno scorso qualcuno aveva scritto con un pennarello Sulla statua della Madonna In questo caso come affermato anche stamattina A Sveglia Trieste Bucci avrebbe confermato che sul posto Ci sarebbero due telecamere Che dovrebbero aver ripreso il gesto E verrà fatta una verifica nei prossimi giorni Sono situazioni che amareggiano Che senso ha fare un gesto di questo tipo Io spero con tutto il cuore Trattasi di ragazzacci Che girano la sera e non sanno cosa fare E che non sia un'azione di Come dire, non dico politica Ma insomma una contrapposizione Allo spirito del presepe Che molto spesso sentiamo in questo periodo Diciamo che la piazza unità Chissà se chi lo ha fatto ci ascolta Abbiamo ben due telecamere Una sull'angolo Una al centro della piazza Con la collaborazione del collega Polidori Insieme al centro radio Analizzeremo le immagini Speriamo di identificarlo E poi insomma Io credo che i tristini preferirebbero Come punizione Metterlo nella casetta Per tutto il periodo Natalizio Al posto della pecora Seduto lì al posto della pecora Sarebbe la miglior pulizione Possibile Ma non si può fare 70 anni fa La dichiarazione universale Dei diritti dell'uomo Tra conquiste Grazie proprio a questa dichiarazione Nuove urgenze Abbiamo sentito il parere Di Don Ettore Malnati Sono aumentati gli stati Che hanno abrogato La pena di morte Quindi è un dato di fatto Poi una sensibilità Nei confronti Ecco della Della libertà della donna E ovviamente ci vorrebbe Un inserimento In modo particolare Dell'attenzione All'ambiente Però la carta dei diritti La carta universale dei diritti Dell'uomo Del 1948 È stato un grande passo Perché è stata sottoscritta Ovviamente Tenendo presente La tragedia Della Shoah E ovviamente Tutto quello che È stato Provocato Attentando La dignità Della persona umana Noi dal punto di vista Della nostra città Dobbiamo tener conto Ecco dei due grandi calvari Quello della risiera E quello delle foibe Ecco questa carta Vuole essere Un auspicio Perché tutte queste cose Non accadano più E quindi è necessario Vigilare Perché almeno Questi 30 articoli Possano essere Veramente Assorbiti Da tutti gli stati Non tutti gli stati Hanno firmato Ma almeno Quei 70 che hanno firmato Ecco Mantengono Ecco queste promesse Quali insegnamenti Non sono ancora attuati Quali dei punti fondamentali Sono stati recepiti Magari in maniera Troppo debole Ecco Quelli Io direi Quelli della tortura Quelli della tortura Ma anche quelli Ovviamente Dei diritti Dei minori Cioè Focalizzandoli Maggiormente Per esempio In Italia Abbiamo una legge Contro la tortura Che dovrebbe essere rivista Perché è una legge Molto Lassista Che tutto Non sarebbe tortura Ben trovati Con il telegiornale Di Telequattro L'ITIS Concluderà mercoledì prossimo Con una cerimonia Le celebrazioni Per i suoi 200 anni di vita Al servizio Delle persone Anziane Della nostra città I servizi È una delle istituzioni Più antiche Del territorio In campo sociale E dopo 200 anni Di storia Non si ferma Ma guarda Al futuro L'ITIS Dal 1818 Al servizio Della persona Si appresta A celebrare La ricorrenza Dei due secoli Di vita Con una cerimonia Presentata oggi In conferenza stampa Che si svolgerà Nella sede Di via Pascoli Mercoledì 12 dicembre Con inizio alle 10 Il 12 dicembre Faremo una cerimonia Cerchiamo di fare Una cosa ristretta Ma significativa Ristretta perché Sappiamo benissimo Che in questi tempi Tutte le personalità Le istituzioni Hanno in dicembre Soprattutto Dei impegni Molto gravosi E quindi Cerchiamo di fare Una cosa Veramente Significativa Perché Perché deve Tracciare intanto Un piccolo Profilo Dell'ITIS Nei due secoli Di storia E poi Ci sarà il nostro direttore Che spiegherà Qual è Cosa è ITIS Oggi E dove si sta Rivolgendo Dopo i saluti Del presidente Pacore E delle autorità Invitate Tra cui il governatore Fedriga Il sindaco Di piazza Il direttore Aswitz Marco Longo Rossella Fabiani Della società Di Minerva E la professoressa Tullia Catalan Faranno un ritratto Storico Dell'attività Dell'ITIS Che sarà concluso Dal suo direttore Generale Fabio Buonetta La cerimonia Concluderà Un ricco programma Di iniziative Che spaziano Dallo sport Ai concerti Abbiamo già iniziato Da quest'estate Anzi direi Che abbiamo cominciato Col botto Con la triestina Che è venuta qua Trovarci I primi di giugno Poi abbiamo sviluppato Una serie di attività Durante l'estate Che hanno coinvolto Anche i dipendenti Nostri E i dipendenti Delle cooperative Che lavorano E con un torneo Di calcio Per esempio Abbiamo avuto Anche il piacere Di nuovo La triestina Di averla qua Praticamente Con il presidente Che ha premiato Tutti i vincitori E che ha partecipato Insieme a tutta Una serie di squadre Giovanili Che hanno veramente Ravivato il giardino E gli anziani Erano felici Poi abbiamo fatto Tutta una serie Di iniziative A cominciare anche Poi una nuova iniziativa Con col diretti Abbiamo inaugurato Un mercatino Che si tiene sempre Qua ogni giovedì E che ci tengo Sempre a pubblicizzarlo Poi tutta una serie Di concertino ultimo Sabato pomeriggio C'è stata La nuova orchestra Busoni Nel Maestro Belli Bene Vi ricordo questa sera Ore 21 Appuntamento con tanti ospiti Al Caffè dello Sport Domani mattina Sveglia Trieste Giulio Lauri E Luisa Polli Gli ospiti Proseguiamo Con il telegiornale Di Telequattro Con lo sport E con il basket Acceduto solo Nel finale L'Alma In quel Di Cremona Dopo una partita Di carattere Niente Primurra In trasferta L'Alma Resta in partita Fino al quarto finale Manda cinque uomini In doppia cifra Ma non ce la fa A sfatare il tabù Della vittoria in esterna Di fronte Una Cremona solida Che ha reggito Proprio con Trieste Alle due sconfitte consecutive Quella più classica Delle prove Dell'ex Quella di Ruzier 12 di sostanza Di Michelino Interessante invece Sotto il profilo tecnico La copiata Da Ross Perici In campo In contemporanea Una trovata Di Dalmasson Che potrebbe replicare In futuro Per mettere in difficoltà Con la tecnica E la poliedricità Coppie di lunghi fisici Ma incapaci Di rincorrere i due Fuori dall'area La cronaca Parla di una Trieste Pimpanta All'avvio Subito 6 a 13 Con la tripla di Peric A condire il primo parziale Sacchetti Partito con un quintetto Rivoluzionato Rimette subito in campo Diner, Ricci e Demps I padroni di casa Reagiscono con un parziale Di 10 a 0 E chiudono avanti Di un punto Il primo parziale Mentre Silins Produce subito 8 punti Per lui Buon ritorno Della nazionale Riconferma a Trieste E lavori in corso Per calarsi Nel ruolo Di alla piccola Dalmasson Ruota positivamente 10 uomini Ma Demps e Crawford Le fanno male A più riprese La ricerca del tiro Da 3 punti Sembra essere L'unica via Per restare agganciati Al treno del match I uomini di Sacchetti Toccano il 32 a 23 Ed ecco la reazione Biancorossa Doppia bomba Di Sanders E ancora Silins Dalla distanza Wright Completa il 9 a 0 In contropiede Si va a riposo lungo Sul 40 a 39 Nelle pieghe della partita Un Daros d'utilità Che recupera 7 rimbalzi E un Peric Che con i suoi movimenti Old style Mette in difficoltà L'Avanoli L'Alma Ritorna in vantaggio Nella ripresa Sfrutta bene L'alternanza Wright-Fernandes In regia E trova i lunghi Ben piazzati Dentro l'area Sul fronte opposto Invece Il protagonista Che non t'aspetti Ruzziere In pieno furore agonistico E si vede L'ultimo quarto Scattato in perfetta parità Vede un'Alma Ancora agganciata La partita Ma nonostante La buona volontà I dettagli Contro Cremona Fanno la differenza Mentre Mattiang e Ricci Scavano il più nove Trieste commette Troppi errori da sotto E in lunetta Mosley nello specifico Martella il ferro C'è ancora speranza Con la copiata Wright-Knox Che di pura volontà Costruiscono il meno 4 Il possesso decisivo Per rientrare però Non è gestito Nel modo migliore E la tripela di Silins Non entra Peccato Ma la strada È quella giusta 87-78 Il finale a Cremona 2-2 invece Per la Triestina In rimonta Sabato pomeriggio A Rocco Con il Gubbio Poche cose Sono certe nella vita La morte Le tasse E che spugnare il Rocco In questo campionato È assai difficile E a compiere l'impresa Ci stava riuscendo il Gubbio Sabato pomeriggio Contro una Triestina Che in qualche occasione Si è fatta sorprendere Tanto D'essere andata sotto Di due gol Cuore e carattere Però distinguono Pavanella e i suoi ragazzi Che hanno rimesso in piedi La partita Lasciando solo un punto Agli ospiti La Triestina Scalda il motore Al decimo Trovando una deviazione Su Ghiotto Opportunità Da pochi passi A tenere in mano Il telecomando Nei primi 20 minuti E l'unione Ma il Gubbio sfodera Un'arma sorprendente Il calcio piazzato Casiraghi è davvero bravo Infatti Il venticinquesimo A calciare a giro Segnando il gol Del vantaggio 1-0 E palla da rimettere in gioco Con il Gubbio Che sulle ali Dell'entusiasmo Costruisce una buona azione Sfumata però Per il mancato incontro Pallone giocatore Chiuso così Il primo tempo La rientro A campi invertiti La Triestina carica Con Granoce Appena entrato Pallone servito Per Hidalgo Che col diagonale Manca di poco Lo specchio 72 minuti Sul cronometro E Umbri ancora letali Casoli dalla destra Crossa Per il neo entrato Plescia Che prendendo il tempo Il suo marcatore Incorna a rete Raddoppio Per il Gubbio Unione in difficoltà Pavanel opta Per un cambio Esce Hidalgo Entra Pizzul E proprio il ragazzo Appena entrato Diventa decisivo All'82esimo Con la sua posizione Azzeccatissima Ai confini Dell'area piccola E il decisivo Tocco a rete Che dimezza lo svantaggio 2-1 Passano 160 secondi Dal gol di Pizzul Che arriva alla rete Del pareggio A firma Lambrughi Il centrale difensivo Dell'Unione Ruba il mestiere A Granoce La sottoporta Le ultime giocate Non modificano Le sorti della gara Che al 95esimo Termina con il risultato Di 2-2 La Triestina Recupera con grande tenacia Una partita a tratti Beffarda Subendo due Dei cinque gol complessivi Incassati a Rocco In questo campionato Segno che da Valmaura È difficile uscire Con tanti punti in tasca Grande successo Al Teatro Bobbio Perché disastro Di commedia Un testo che dissacra Il teatro E scatena risalte E applausi A scena aperta Risate continue Applausi A scena aperta Contrapuntano Si può dire Ogni momento Di che disastro Di commedia Lo spettacolo Di Henry Lewis Jonathan Sayers E Henry Schintz Al Bobbio Fino a mercoledì In una versione italiana Che ricalca La perfezione Quella inglese In scena a Londra Da quasi cinque anni Partendo da una commedia Gialla Messa in scena Da una compagnia Scalcagnata Sul palcoscenico Succede di tutto Porte che non si aprono Praticabili Attori che precipitano Attori che si scordano Le battute Attrici vanesie Tecnici costretti A prendere alle parti Dei protagonisti feriti Il tutto Con un ritmo Forsennato Che solo l'intervallo Interrompe Ed è davvero L'unico difetto Dello spettacolo Diretta dal regista Della produzione Originale britannica Mark Bell Che disastro di commedia Può contare Su un gruppo di attori Affiatato Che non perde un colpo Il pubblico triestino Lo ha capito subito Ed ha salutato I loro sforzi Con un successo Trionfale Una volta tanto Possiamo nominarli tutti Luca Basile Stefania Autuori Marco Zordan Viviana Colais Alessandro Marverti Yaser Mohamed E Valerio Di Benedetto Con la partecipazione Di Gabriele Pignotta Eh signore Diamo un'occhiata Alle modalità Per vedere In onda su Tele4 I vostri presepi E alberi di Natale Numero di telefono 040 300 500 Oppure una mail Meglio A redazione Chiocciola Tele4.it Ecco il cartello Appuntatevi Il numero di telefono O la mail Per avere i vostri presepi E alberi di Natale Su Tele4 Intanto Vediamo quello Del giorno E io vi auguro Una buona serata E un buon proseguimento Con i nostri programmi Qua'nna 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.